Che cosa volevi te ignorare? Il sopravvito tuo. Il sopravvito tuo. Tu c'hai ancora un sopravvito e non dici niente. Felice, si approssima l'inverno. Devo prendere una pulmonita. Lo sacrifico. Siccome il Monte di Pietà era chiuso... ...vai dallo charcutier qui alla cantonata. Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salomiere. Il casaduglio. E parla chiaro. Il bottegaio. Gli lasci questa roba impegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa, perché non la digerisco. Tu con questa fame digerisci pure una corda di controbasso. Lasciamo andare. Poi ti fai una bella buatta di pomodoro. Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia? Eh? Salsiccia? Con la salsiccia. Ti fai dare un chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pella, l'infila. Trrrtata. Trrrtata. Te la fa davanti a te. Chiaro? E poi rimaniamo così asciutti e asciutti. Solamente spaghetti e salsiccia. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Eh? Uova in padella. Uova? Eh? Uova? Sì. Allora dieci uova. Tu le vuole e mangi? Me le dai, me le mangio. Assicurati che siano fresche. Tu le agiti. Se sono fresche, te le pigli. Se no, desisti. Eh? Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Figlio queste dita, premi la mozzarella. Se è colo il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure cinque lire in contanti. E vai fuori di limpetta dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo e ti fai dare due litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no... Desisto. Desisto. Che altro? Tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli due sigari. Uno per te e uno per me. Il resto me lo porti. Io vado. Pasqua, dimmi una cosa. Ma qui dentro c'è il palto di Napoleone. Che c'entri il palto di Napoleone? C'è il palto di quando ho sposato mia moglie Concetta. Lo conosco, lo conosco, quel palto. Se io vado allo chardoniere, con questo palto, quello me pigli a calci. Hai capito? E poi non ci posso andare, dì. Perché? Sono tre mesi che ho un mio vestito d'impegno e non sono andato più a ritirarlo. E io nemmeno ci posso andare.